Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Oggi sono, scusatemi per la voce ma sono un po' raffreddata Oggi sono qui per filmare la morning routine dalla piccola Chloe Quindi niente, vi lascio al video, a dopo! Ma buongiorno patatina! Ma chi sei svegliata? E' la piccola Chloe? Eh amore! Dai adesso la mamma ti prepara il latte Per il latte userò questo biberon nuovo della sua Vinax Con la tettarella in silicone Con la tettarella appunto in silicone E quindi niente, vado a riempirglielo Ok, il latte è pronto Adesso io lo vado a dare Ok, questa piccolina ha finito il latte Adesso la vestiamo Vi mostro che cosa indosserà Allora, la piccolina indosserà questa Allora, partiamo dal basso Con queste scarpine Adesso vi mostro meglio Così Con la calza maglia Sotto E poi indosserà questa salopette Così con la gonna Sotto indosserà questa maglia con il colletto Poi in testa indosserà questa fascetta Poi sotto come intimo Indosserà questo body Di Chiavi E poi indosserà questa ciuccia Bene ragazzi La morning routine di Chloe Finisce qui Perché Chloe è vestita Adesso vi mostro Vi lascio una foto alla fine Quindi niente La morning routine di Chloe Finisce qui Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al mio canale Che ai 115 iscritti Farà una sorpresa E niente ragazzi Ciao Al prossimo video Ciao 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 Ciao